allora come vedete sto guardando già la passo sto facendo un piccolissimo video anche per youtube per sottolineare che con lei che ha fatto il promo che poi ho messo su youtube ieri mattina non era greta scarano ma margherita vicario che la cantante che inquadrata in questo momento greta scarano è un'attrice un'attrice che sta conducendo la puntata ma non è quella che state vedendo adesso inquadrata tutto qui chiedo scusa per cui se se nel titolo scritto conduce greta scarano cioè si conduce credere greta scarano ma quella che si vede nel promemoria che ho pubblicato ieri mattina non era greta scarano ma era margherita vicario ossia questa cantante spero di essere stato chiaro ciao a tutti